Vinta, 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 guan quadrado, vinta, guan quadrado, vinta, signori, siamo ancora vivi, ma che partita è stata, ma che partita è stata, allora, prima di iniziare questi 90 minuti ho detto, non la sento troppo, sono qua che dico, va sì, bisogna giocarla, me l'avete fatta sentire, eh, minchia se me l'avete fatta sentire, possiamo dire che a livello di testa la miglior partita della Juventus di questa stagione, a livello di testa, eh, la testa dei giocatori, di testa la miglior partita senza ombre di dubbio, che se la Juventus avesse giocato così, non dico tutto, dico l'80% delle partite, cara la mia Champions League, andavamo a giocarci, la qualificazione intendo, eh, cara la mia qualificazione della Champions League, cara la mia Europa League, cari miei, sarebbe stata tutta un'altra stagione, ma è andata così, quindi, purtroppo è andata così, c'è OneFootball qui sotto in descrizione, che adesso bisogna attivare le notifiche, che io domani vado al mare, ma mentre c'è il Napoli che gioca con la Fiorentina, bisogna attivarle queste notifiche, eh, su sto OneFootball qua, che l'Atalanta ha già preso uno dei posti rimanenti, ci sono solo due posti, Juve, Napoli e Milan, ok? Ci sono tre squadre, ci sono solo due posti adesso per la Champions, una rimane bocca asciutta, noi oggi abbiamo fatto il nostro, ad oggi abbiamo fatto il nostro, ok? Era importantissimo vincere, era incredibile pensare di vincere con l'Inter, la formazione si pensava fosse sbagliata, l'espulsione di Bentancur, e chi se ne frega, e chi se ne frega, conta il risultato, no? E conta la testa, conta la voglia di vedere i giocatori che finalmente giocano con un obiettivo in testa, con una voglia, che Dio santo, mangiando l'erba, ma quanto è bello vedere i giocatori che giocano mangiandosi l'erba. Allora, corsi e ricorsi storici, perché non si può non dire, poi magari non va, però la Juve che va a giocare contro l'Inter, con un espulsione, un po' così, con un cartellino giallo, un po' così, come era stato vicino magari a questo di Bentancur, hanno dato il secondo giallo a Pianic, adesso va a Bentancur, no? Anche se quella di Vessino in realtà c'era, era rosso diretto. Fatto sta che, hanno dato il secondo giallo a Pianic, è andato a Bentancur, a istanza di anni, la Juventus vince 3-2 con un gol alla fine, tra l'altro ha 8 gol di Barzagli all'epoca, 8 gol di Chiellini stavolta, sempre quadrado, sempre quadrado in queste partite qua, sempre quadrado, stavolta batte anche il rigore, ragazzi, parte con 0 gol segnato in stagione, finisce con una doppietta su calcio di rigore, ma roba davanti, e il Napoli, che deve fare meglio della Juve per finire davanti alla Juve in classifica, va a giocare a Firenze. Il giorno dopo, aver visto una partita con lui, entra la Juve e finisce 3-2. Non succede, perché non succede, non succede, non succede, ma se succede, scusate se ho sta voce, mi ha urlato tantissimo, magari lo vedrete nella live reaction, non succede, ma se succede è qualcosa di incredibile. Ragazzi, il rosso diventa ancora, possiamo parlare finché volete, però il calcio è fatto anche di sta roba qua, l'ho detto nel momento esatto in cui ce l'hanno espulso, secondo me non era rosso, però è andata così, alla fine è andata bene per noi. I due rigori, anche qua, possiamo dire quello che vogliamo, secondo me c'erano entrambi, se vai al VAR a vedere queste robe, poi qualsiasi contatto te lo fischiano, i tre rigori in realtà possiamo dire, perché comunque, poi c'è stato quello di quadrado, che mi sembrava nettissimo, nonostante le proteste dell'Inter, quello veramente super netto, oh ragazzi, io sono contento. È ovvio che dà fastidio vedere la Juventus che fa queste prestazioni qua, a un punto del campionato in cui magari, non dico che non continuo più niente, perché ripeto, adesso Napoli e Milan avranno un po' più di tensione, un po' più d'ansia con questa Juve arrembante che non si ferma neanche davanti all'Inter, l'Inter non aveva ancora perso, è nel ritorno, non aveva ancora perso. E quindi, Milan se vince è in Champions Matematica e poi avanza un punto tra Juve e Napoli che ci si giocherà forse poi l'ultima stagione. Noi abbiamo anche la finale di Coppa Italia, adesso la da preparare, però ragazzi, ma che pomeriggio, che partita, che voglia, che grinta, che concentrazione, che testa, che cuore, questa cassa è stata una partita da qua, a me piacciono queste partite qua, a me piacciono queste partite qua, anche se poi preferisco sempre non prendere gol, però queste partite sono quelle che veramente ti fanno godere, ti fanno dire, oh che bello, guardo il calcio per una ragione, guardo, tifo una squadra per un motivo. Poi ci sono dei giocatori veramente come Quadrado che vanno... Il cambio di Ronaldo, sottolineiamolo, dicevamo anche prima in live, credo che sia stato giustissimo da parte di Pirlo, anzi, lo avevamo minneggiato quando qualcuno chiedeva di bala, ragazzi, di bala in quel frangente con un uomo in meno, come fai poi a metterlo su? Dove lo metti? Era giustissimo togliere Ronaldo, era giustissimo mettere un attaccante come Morata, che va a fare la lotta, va a picchiarsi, va a pressare, corre, tiene la palla, anche se non ha fatto tantissimo, perché si è visto poco Morata, ma ha giocato esattamente la partita che deve giocare un attaccante di una squadra che gioca con un uomo in meno. Ragazzi, ve lo torno a dire, una partita del genere da parte di Juve quest'anno non si era ancora vista. Non si era ancora vista. E questa è veramente la dimostrazione che questa squadra è mancata lì. è mancata nella testa. Poi, a onore del vero, primo tempo completamente illuminato dalla Juve dove l'Inter non si vede, però l'Inter non si stava giocando niente. L'Inter è venuta a Torino perché dal calendario doveva venire a giocare a Torino. Non si sta giocando niente l'Inter, quindi aveva magari anche meno mordente. Nel secondo tempo, tra l'altro il discorso di Kuluseski che va a marcare Brozovic, Conte nel secondo tempo fa due play, Brozovic ed Eriksen davanti alla difesa, Kuluseski va un po' in difficoltà e forse anche Kuluseski ha rischiato un cartellino giallo, un secondo cartellino giallo nel primo tempo che non gli è stato dato. Però, dopo l'Inter prende l'inerzia della partita, l'Inter va avanti, l'Inter diventa la squadra che fa la partita, perché comunque anche se sei lì non ti stai giocando niente, con una Juve in difficoltà, poi con l'uomo in meno, e per come è arrivato l'uomo in meno, l'odore del sangue della Juve era lì. L'Inter era uno squalo, pronta ad andarsi a prendere un altro gol. E poi il gol, l'autogol di Chiellini, il gol di Lukaku, dite come volete, il VAR a me in diretta sembrava palesemente farlo su Chiellini, poi appena ho fatto vedere il rigore ho detto, vabbè ragazzi niente da fare, è gol, è autogol, è giusto che sia così. Pazzesca, una partita veramente pazzesca, però la Juve ha fatto quello che doveva fare, ancora una volta bene Rabiot, mi è piaciuto tantissimo Rabiot, bene Chiellini finalmente in un big match, in una partita importante, enorme, immenso delitto, poi ne parliamo nelle pagelle, buono Danilo, Alexandro un po' attento, non chissà quale partita, ma bene anche lui, Chiesa ci ha provato, non è stato determinante, Kluseschi non mi ha fatto impazzire, anche se è andato sì davvero a uomo su Brozovic, ma probabilmente possiamo dire che la partita l'ha vinta Brozovic, possiamo dire così, ora ragazzi c'è una partita sola, noi possiamo stare 75, andare a 76, oppure andare a 78, c'è poco da fare, queste sono le possibilità della Juve in Serie A, dipende tutto dal Milan, che poi l'ultima giornata andrà a giocare contro l'Atalanta, però potrebbe essere inutile, e appunto dal Napoli. Ora, ripeto, probabilmente questa partita, questa emozione, questa gioia, questa euforia, potrebbe anche essere inutile, perché il Napoli ha le potenzialità assolutamente di fare 6 punti in queste due partite, però noi in questa situazione ci siamo messi perché non abbiamo mai giocato partite di questo tipo durante l'anno, e adesso possiamo fare solo una cosa, sperare che a loro vadano male le cose, loro al Milan, però il Milan lo vedo con un piede e mezzo già in Champions League, poi Ronaldo sbaglia anche il rigore, poi l'Esto arriva a dire sulla parata di Andanovic, io stasera sicuramente sono molto molto contento della mia Juve, crescono tanti rimorsi e rimpianti di non aver mai visto questa voglia, questa fame e questa cattivera negli occhi dei ragazzi, che invece stasera ci hanno veramente messo di tutto. Ragazzi, voglio il record di mi piace per questo video. Buona serata, ci vediamo domani. Ciao a tutti.